buongiorno buongiorno dal dottore Claudio Saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore che mi scrive da Madrid Spagna e mi chiede dottore mio padre ha l'alzheimer cosa posso fare con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola perché il mio medico dice che purtroppo non c'è granché da fare è una malattia incurabile si può attenuare ma non esiste soluzione rimedio definitivo allora rispondo a questo signore sull'alzheimer rispondo anche a te che mi ascolti in primis devi sempre comunque andare dal tuo medico se hai un caso in famiglia come l'alzheimer o ce l'hai te perché il tuo medico è l'unico responsabile della tua salute oppure lo specialista della salute a cui ti rivolgi devi sempre andare da loro perché nel sottoscritto negli associati anche se si contano nell'associazione ipnologi associati di los angeles beverly hills molti medici psicoterapeuti di caratura internazionale noi compreso l'editore non facciamo diagnosi né curiamo né facciamo terapia è fondamentale tu se il tuo medico non ha nulla in contrario puoi inserire anche l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola che di fatto è costituita da sole parole parole semplici comprensibili create ad arte ad hoc però create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere premesso tutto sta bella pappardella arriviamo al dunque perché a me piace con questi video parlare al popolo e non a chi sta dietro ad una scrivania non siamo a scuola né all'università ok voglio parlare alla gente comune premesso ciò devi pensare parto un po da lontano che l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dall'associazione medica mondiale nel 1958 vai a documentarti c'è una caterva di informazioni accreditate su internet e su altre banche dati inoltre la stessa chiesa con papa pio nono nel 1847 l'ha riconosciuta sempre come medicina alternativa sposando il pensiero dell'associazione medica mondiale anche se l'aveva riconosciuta molto prima nel 1847 con papa pio nono lo stesso papa giovanni paolo secondo papa voitila il papo polacco ha dichiarato nella sua biografia un libro così grosso che ti invita ad acquistare a leggere perché papa voitila un grande papa a prescindere dall'orientamento religioso ti posso garantire che lui ha dichiarato che conosceva più di 12 lingue straniere perché si auto ipnotizzava ok per cui inoltre se non ti bastasse se un tipo una tipa che vuole certezze scientifiche in tutti gli ospedali del mondo in tutti dici come in tv non se ne parla mai non l'ho mai sentito mia madre mio padre vicino di casa i miei colleghi non significa nulla il fatto che tu non lo sappia ricordati il 95 per cento non te lo diranno mai poteri forti ok anche se conoscono se non conoscono se tranquilla arriviamo fino al 100 per cento in tutti gli ospedali del mondo si usa l'ipnosi vera professionale con la via maiuscola per l'anestesia per anestetizzare per eliminare i dolori quando si effettuano anche operazioni ascoltami bene di alta chirurgia tu immagina un po per le persone intolleranti ai farmaci dell'anestesia che cosa vuoi di più un caffè e allora se tu le hai provate tutte anche sull'alzheimer esistono ricerche scientifiche casi studio che tu a parte me la mia associazione le mie esperienze dirette indirette e quelle del professor dottore michelanghel garai e della dottoressa rina brunini miei associati miei mentori miei amici per l'eternità tu puoi anche documentarti sulle liste scientifiche internazionali di nome l'anset the lanset the life sono in inglese ma oggi con internet le puoi tradurre a fare quello che desideri e notare i casi studio le ricerche i successi di problematiche relative all'alzheimer con l'ipnosi poi è logico che anche i professionisti dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film e neanche con la stessa ipnosi conformista commerciale per un certo verso non tutta perché quest'ultima è ottima io sono partito da questo tipo di ipnosi le ho provate tutte finché nel 2008 a causa di un ictus molto grave mio padre che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo non ho fatto altro che sposare l'ipnosi vera professionale con la v maiuscola di los angeles baby hills della dottoressa rina brunini del professor dottor michelanghelgarai premesso tutto ciò come se non bastasse tu vai su queste riviste scientifiche internazionali telanset life e noterai che cosa nel mondo hanno fatto e ottenuto come successi sul problema sull'alzheimer su persone con l'alzheimer io ti posso garantire che la nostra associazione i prolegi associati si parte da un audio a un ip3 dcs un vero e proprio capolavoro 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 unico al mondo dal titolo no alzheimer e tu seguendo le istruzioni alla lettera a prova di un nonno a prova di un idiota a prova di un pigro puoi aiutare la persona che ha l'alzheimer anche senza fare sessioni online di ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola con il sottoscritto che peraltro sono sospese per problemi di tempo di impegni perché sto lavorando anche ad altri progetti per aiutare più gente possibile premesso tutto ciò io ti faccio una domanda se tu con tuo padre tua madre lei provate tutte vedi questo problema vedi che non c'è cura come vidi io con mio padre nel 2008 ma che ti costa rinunciare ad una colazione al giorno per capire se funziona o non funziona facciamo finta che fossi a giarlataneria che tutto ciò che ti ho detto non abbia rilevanza scientifica oppure che tu non abbia voglia di documentarti o di approfondire la ricerca con l'università che ha nella mano che si chiama cellulare internet invece di cazzeggiare tutto il tempo a sciocchezze o a fare shopping scusami se ti vanto ma a me sono concesso perché non provi e se fatti la domanda immagina se funzionasse e se la malattia si fermasse o regredisse e se la mente perché il miracolo della mente lo fa poi la persona perché le mie parole che sono semplici pulite trasparenti comprensibili pulite però create ad arte ad hoc guidano il subconscio il pilota automatico a fare il miracolo della tua stessa mente ok per cui il miracolo alla guarigione l'auto guarigione la guarigione da soli ricordati non è l'audio dici esso il sottoscritto la mia voce le mie parole ma è il subcosciente l'88 per cento della mente della persona che ha l'alzheimer oppure un'altra malattia rara a cui la scienza non dà ancora risposte concrete poi puoi associare la terapia medica all'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola se il tuo medico non ha nulla in contrario ma perché eliminare una chance una speranza io ti posso dire che abbiamo aiutato e aiutato centinaia di persone con l'alzheimer con ottimi risultati mio padre è stato due anni nel letto con l'ictus anche con l'ictus gravissimo non c'è speranza ti danno soltanto un liquido anticoagulante eccetera eccetera l'ho portato ad una massa di specialisti neurologi eccetera eccetera spendendo una montagna di soldi ma tutti dicevano è destinato a stare nel letto per tutti gli anni a venire mio padre dopo due anni con pieghi di decupito in 30 minuti direttamente da los angeles online con la dottoressa lina brunini su skype 2008 adesso tutti si riempiono al bocco di online 30 minuti ha fatto così rocco alzati e cammina mio padre si è alzato ha camminato e da lì è iniziata la sua vita non credere nessuna parola del sottoscritto pensa che io dal 2008 ad oggi mi auto ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato perché non mi ruba tempo non mi costa nulla il metodo di cesso è unico al mondo visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottore claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottore claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter e benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottore claudio saracino aspetto le tue domande ciao